In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Sia lodato Gesù Cristo, Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Carissimi fedeli, ben ritrovati per il commento del Vangelo della Domenica. Domenica prossima è la Domenica delle Palme. La Domenica delle Palme viene chiamata anche Seconda Domenica di Passione, perché ha due significati, ha due valori. Il primo, quello di ricordare l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. E il secondo, quello di commemorare la Passione di Cristo. E i brani di Vangelo sono essenzialmente due. Il primo punto, quello che ricorda, che narra l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. E il secondo è l'Apassio, cioè il lungo Vangelo della Passione di Cristo. Io mi riferirò soltanto al primo brano di Vangelo, cioè all'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Perché della Passione di Cristo ne ha parlato molto bene, in modo approfondito, Don Alessandro, nelle sue catechesi. Ebbene, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme è secondo il Vangelo di Matteo. Nel capitolo 21, i primi nove versetti. Ecco, si racconta che Gesù arriva in prossimità di Gerusalemme, vicino al villaggio di Betfage. E manda due dei suoi discepoli a prelevare, dal vicino villaggio, un'asina e il suo puledro. E dice, non preoccupatevi, perché il padrone di casa potrebbe anche chiedervi come mai li prendete. Rispondete che servono al Signore. E ve li lascerà prendere. Ecco, già in questo primo, in questo inizio, vediamo che il Signore si comporta effettivamente da Signore, come dice Lui stesso. In quanto vede perfettamente la scena dell'asina con il suo puledro e vede anche come andrà a finire. Quindi una vista a distanza e anche una vista nel futuro, anche se futuro immediato. Gesù sa vedere nel tempo e sa vedere anche nello spazio. Quindi manifesta in questo modo la sua divinità. Comincia a manifestare la sua divinità fin dall'inizio di questo episodio. Effettivamente i discepoli trovano, come aveva detto il Signore, prelevano tranquillamente l'asina e il suo puledro senza ostacoli e li portano a Gesù. Quindi vedete che Gesù sta dominando tutta la scena. Tutto quello che accadrà da questo momento in avanti, fino all'ingresso, fino al trionfo, diciamo così, in Gerusalemme, è dominato da Gesù. Senza ostacolo alcuno. Non opporranno resistenza né i capi della religione ebraica, né tantomeno le guardie dei romani. Ma tutto filerà via liscio come l'ingresso, pensate bene, di un nuovo re. Il che avrebbe dovuto fare alzare le antenne alle autorità, sia giudaiche che romane. Ma come vi dicevo, padrone di questo avvenimento è solo e soltanto Gesù, che si comporta proprio da Signore e da re. Ebbene, con questo puledro, con questa asina, Gesù entra in Gerusalemme. La scelta di un puledro e dell'asina è perché richiama un'antica profezia. Un'antica profezia del profeta Zaccaria. Dite alla figlia di Sion, ecco che il tuo re viene a te, mansueto e montato su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da Soma. Quindi è un re, è un re mansueto, quindi un re di pace, pacifico. È un re mite, perché non si circonda di un esercito, non ci sono soldati con lui. Ma ci sono persone molto semplici, i suoi discepoli, e poi si aggiungerà tutta la folla di Gerusalemme, ma come dicevo prima, nessuno dei grandi nomi della città. Persone semplici e addirittura bambini, bambini e ragazzi. Quindi è anche la scelta di questa cavalcatura, cioè dell'asino e non di un cavallo, fa veramente vedere che si tratta di un re umile, che non cerca la propria gloria, che non cerca la propria gloria. Quindi il Signore entra, il Signore ha un grande potere in questo momento, perché è Lui che è il regista della scena, va tutto come Lui vuole, ed è anche Lui che sta attirando a sé le anime delle persone. Perché la sua figura, fratelli carissimi, non è come quella di un uomo normale. Il suo corpo è il tempio della persona divina, pensate, del Figlio di Dio, della seconda persona della Santissima Eternità. Quindi soltanto la sua presenza ha una forza di attrazione e di comunicazione, di grazia di Dio, che penetra non tanto nello sguardo delle persone, ma addirittura dentro ai cuori delle persone. La sua anima, la sua figura, scusate, emana una energia particolare, è l'energia dello Spirito Santo. Gli umili e i semplici non sanno resistervi e sono conquistati dalla figura del Signore. Ecco perché tutta quell'esultanza. Pensate, se noi ci trovassimo davanti al nostro Signore Gesù Cristo, ok, adesso lo vedremmo nella gloria, mentre allora lo vedevano solo come persona umana, ma lasciate perdere l'aspetto esteriore. Anche soltanto la sua presenza, ripeto, emanava un'energia divina, una forza di attrazione divina. Quindi immaginiamo l'esultanza che si è realizzata in quel momento. Il Signore, quando vuole, può dominare persino le folle, persino imporre la sua signoria, non in modo violento, ma in modo libero ed entusiastico. È il Regno di Dio che si manifesta in quel momento. Come vorremmo tutti quanti noi che si realizzasse il Regno di Dio? Lo chiediamo nel Padre Nostro. Venga il tuo Regno. Ancora non si è realizzato. Si realizza a macchia di leopardo, là dove le persone lo accolgono. Lo accolgono nella loro anima, con la loro libera scelta. Ma ancora il Regno di Dio, impostato in tutto il mondo e in tutta la società, non l'abbiamo ancora veramente visto. In quel momento gli abitanti di Gerusalemme fanno questa esperienza che rimane poi e rimarrà nei desideri di tutte le generazioni cristiane fino all'ultimo giorno quando il Signore verrà con il suo Regno. Ecco dunque che, come vi dicevo prima, questo re semplice, questo re umile, conquista i cuori dei semplici e degli umili. che stendono i loro mantelli e sventolano i rami di olivo, i rami di palma. Quindi i loro mantelli, cioè quello che hanno, quello che possono, fanno per la gloria di questo re. Mettono a disposizione i loro stessi abiti come tappeto che il Signore deve calpestare per entrare in questa città. E gridono a gran voce Osanna al figlio di Davide. Ecco, lo riconoscono re perché è discendente di Davide. Anche appartiene alla dinastia giusta, quella benedetta dal Signore. Osanna che significa gloria a te o Dio, quindi un inno di ringraziamento al Signore per avere dato questo Messia, questo Salvatore, questo re straordinario. Benedetto, dicono i bambini, i ragazzi. Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, cioè che viene come Signore all'interno della sua città, dove c'è il suo Tempio, quello che è stato costruito per Lui, perché Lui è il nuovo Tempio, perché Lui è la città santa, nella quale tutti quanti dobbiamo stringerci per essere il suo popolo che lo osanna in eterno. sia lodato Gesù Cristo. In nome dei Patris e Figli e Spiritus Santi. Amen.